Matteo Ruggeri, peccato perché l'Atalanta almeno un punto lo avrebbe meritato. Sì, avremmo meritato il gol del pareggio, soprattutto nel secondo tempo, che abbiamo fatto, secondo me, una buonissima prestazione, però si è stati fortunati a non essere lucidi sotto porta. Che cosa è successo? Una partita che, insomma, avete giocato alla pari, poi l'Inter è riuscito a portarsi sul 2-0, l'avete riaperta? Sì, siamo stati condizionati da due episodi che poi ci sono andati di sfortuna, il primo del rigore di Cianogulo e il secondo è stato un gol, secondo me, davvero attaccante, però poi, come avete, siamo riusciti a accorciare le distanze e gli ultimi 15 minuti, secondo me, abbiamo provato l'assedio finale, ma non siamo riusciti a pareggiare. Al di là del risultato, come ne esce l'Atalanta da questa partita? Dobbiamo uscirne sicuramente a testa alta perché giovedì ci aspetta un'altra battaglia importantissima che può proiettarci verso un traguardo importante e quindi dobbiamo recuperare al massimo e arrivare molto bene a questa partita.